capite già che c'è una bella flessibilità diciamo di questo prodotto perché vi permette di andare a programmare quello che voi di fatto potete fare dei piccoli script che vi permettono anche quasi di non avere anche un PLC e poi ci sono le sue dimensioni che è compatto che quindi sono più o meno sulla falsa riga dell'FP Web 2. Un'altra cosa da menzionare che sicuramente interessante per chi magari si occupa un po' più di teleassistenza o comunque di controllo remoto si possono inserire le tre espansioni col connettore a 16p un po' come fosse l'FP0R cioè potete aggiungere delle schede di espansione di ingressi e uscite analogici e digitali quindi poi voi attraverso l'FP4C siete in grado di andare a interrogare quest'area di memoria quindi andare a scriverle a leggerle e quindi avere magari una piccola automazione remota e riuscire a comandare la distanza. Chiaro che può essere utilizzato come un RTU vera e propria però dà una buona flessibilità anche questo. Esiste poi se avete comunque sotto mano lì il vostro IP4C e lo guardate dalla parte in alto noterete che c'è un piccolo pulsantino quel pulsante lì serve per resettarlo riavviarlo poi vi faccio anche vedere un attimino come come farlo. Sul frontale trovate sempre tutti i led che vi danno indicazione un pochino dello stato della CPU quindi c'è il led di power che chiaramente è quello per l'alimentazione quindi l'unità è in funzionamento quello di connection vuol dire che alcune funzioni sono utilizzate all'interno dell'FP4C quello di user è diciamo utilizzato per per esempio quando si fa reset o comunque si può utilizzare nel senso che sempre dalle aree di memoria che si diceva prima per andare a interrogare le espansioni si può andare a comandare anche questo led quindi si può accenderlo per determinate operazioni che ne so voi volete che quando il vostro cliente si per esempio si mette in connessione remota voi potete dire attenzione quando l'utente è connesso in connessione remota accendi il led user che vuol dire che c'è qualcuno che sta lavorando all'interno delle vostre forse il led mem serve per cioè indica praticamente che sta avvenendo un'operazione di lettura scrittura sulla memoria usb usb 1 usb 2 indicano che è stato connesso qualche dispositivo a l'FP4C quindi se non si illumina non vuol dire che non ha riconosciuto il vostro dispositivo e i due led che vedete in basso sono quelli che indicano la trasmissione sulle due seriali che ci sono montate sul PLC lascio anche un piccolo schema riassuntivo che chi in cui avete un pochino tutte le le caratteristiche da notare che su questo PLC scusatemi su questo gateway si è passati al dispositivo a molla che sicuramente è una comodità diciamo molto molto interessante e poi ci sono indicati un pochino tutti i protocolli supportati quindi il TCP, l'UDP c'è la possibilità di sincronizzare allora quel server NTP arriverà l'ESI 6870 per chi si occupa di telecontrollo, l'SMTP, il MODVAS, il DDNS, l'HTTP, arriverà anche questo in versione client visto che la parte server c'è già perché c'è il server integrato, l'SSH, il TENET, il WNC, insomma trovate un po' tutto quello che è di cui è composto, di cui pian piano parleremo adesso in questa presentazione compresi anche il file UL e le conformità varie CE il riluvio forzato come vi dicevo prima si può fare dal tastino lì in alto per farlo fondamentalmente si preme tre volte entro tre secondi e quindi il vostro led arancio di user comincia a lampeggiare come fosse un piccolo battito cardiaco con una frequenza di un secondo e quando comincia ad avere che entra in questa modalità si tiene il pulsante di reset tra i tre e tre secondi e quindi procederete e farete un riavvio magari è interessante se dovesse mai capitare che si potesse anche magari bloccare avere la modalità di poter eraviarlo anche senza connettersi magari può farlo uno anche che magari è lì in assistenza senza dover per forza connettersi con i PC altra modalità interessante perché magari uno lo usa per qualche prova lo perde in mezzo alla rete perché lo configura non so da un cliente perché lo fa vedere poi torna a casa lo vuole connettere a un'altra rete quindi sapete anche voi che se gli IP sono fissi e sono in una rete è difficile rintracciare un dispositivo su una rete in questo modo avendo due diciamo sotto reti diverse quindi lavorando su diversi livelli allora c'è la comodità di poter dire ok come sempre con la procedura di prima quindi premo tre volte il tasto in tre secondi entro in questa modalità di lampeggio del led user e a quel punto lì io tengo premuto il tasto per almeno sei secondi una volta che lo rilascio l'unità si resetta questo vuol dire che resetta tutti i vostri dati che avevate all'interno resetta tutto quello che è la parte di configurazione quindi dall'IP al WNC al server cloud e tutto questo qua riportate praticamente alle impostazioni di fabbrica perderete anche i progetti HMW che ci sono all'interno quindi vi consiglio se doveste mai trovarvi in questo caso ecco ma probabilmente ripeto è più un discorso finché magari lo sposterete da una rete all'altra per fare delle dimostrazioni o comunque perché lo utilizzate come device di test prima di installarlo perché una volta che installate insomma credo che sia un'eventualità abbastanza remota se doveste mai recuperare il vostro I4C di prova che tenete sulla scrivania per fare le vostre prove ecco questo è il metodo qui c'è un esempio di come funziona internamente l'FP4C in linea di massima per chi è abituato a lavorare con l'FP Web 2 posso dire che più o meno lavora nella stessa maniera cioè per esempio come vedete lì la funzione di login può prendere i dati da tutte le interfacce ma come si può vedere da quella freccia dopo il PLC interface nel centro è l'unica A che comanda cioè come veniva nell'FP Web 2 I4C va a leggere delle aree di memoria che sono impostate per ogni funzione tramite le function block che troverete nella libreria quando avrete il vostro dispositivo in base a quello che ci si trova scritto dentro lui va a eseguire determinate operazioni un po' come quello che avveniva anche sull'FP Web 2 quindi di fatto lui continua ad eseguire un polling sull'interfaccia che voi avete settato come principale mentre le funzioni esterne quindi che ne so il logging oppure che ne so avete un pannello che viene a leggere tramite il vostro I4C dei dati sul PLC che avete sulla seconda seriale mentre avete messo come prima seriale l'altra diciamo queste funzioni diciamo lavorano simultaneamente cioè voi trovate la porta aperta per tutti gli instradamenti su tutte le vostre connessioni che avete seriali USB che siano interne o che siano Ethernet questa è stata una rapida introduzione diciamo dell'hardware se qualcuno ha qualche domanda potete attivare il microfono magari pormela oppure scriverla in chat se magari Boris riesce anche già a rispondervi in questo momento qui ok vedo che nessuna domanda quindi andiamo avanti adesso faremo una rapida carrellata di tutte le funzioni che ci sono a bordo interessanti per la vostra industria 4.0 allora la principale novità diciamo quella più semplice e più anche carina probabilmente è che la configurazione adesso viene via web browser non c'è più la necessità di avere il configuratore come se aveva nell'FP Web 2 cioè io adesso prendo il mio I4C lo collego alla rete e accedo al suo indirizzo IP attraverso delle pagine configurate e riesco a configurarlo e quindi ad avere una configurazione quasi completa le uniche due cose che si possono eventualmente andare a settare con altri programmi sono con l'HMWin eventualmente le pagine web e lo PCWA comunque adesso pian piano andremo avanti con questo discorso vi farò capire un attimino com'è come vedete la connessione in HTTPS quindi è tutta una connessione privata diciamo che è allo stato dell'arte lo PCWA è un'altra interessante novità che all'interno dell'I4C ha la possibilità di lavorare sia come client che come server quindi il vantaggio dello PCWA qual è? è un protocollo come si diceva client server quindi è un po' in continuo un po' come siamo già abituati magari con Modbus o con Mutual o tutti questi tipi di protocolli che lavorano nella stessa maniera il vantaggio vero che ha è che è uno standard e quindi è implementabile e decifrabile da chiunque diciamo si scarica la normativa per implementarlo e ha una gestione del dato che è completa cioè all'interno se voi andate ad analizzare i pacchetti dell'OPCWA trovate il timestamp tutto il dato configurato ogni dato ha una sua codifica ogni tipo di dato viene indicato tutto di quello che state inviando ci sono dei messaggi di hack novelage è un protocollo molto completo e anche molto corposo cioè magari poi vedremo la differenza con l'MQTT questo ha veramente nel pacchetto Ethernet ha una completezza di dato che pochi protocolli hanno e magari poi se avanziamo tempo quando apriamo l'HMW magari vi faccio anche vedere come si va a configurare quindi diciamo l'OPCWA vi dà la possibilità di connettere il vostro dispositivo che magari non ha l'Ethernet quindi il vostro PLC configurato magari sull'USB dell'I4C l'I4C fa da gateway, fa da server quindi uno SCADA può tranquillamente interrogare in OPCWA il vostro PLC oppure al contrario l'OPCWA client può andare a dare dei dati su un OPCWA server quindi essere lui, passatemi il termine, tra virgolette lo SCADA della situazione poi altra novità molto interessante è l'MQTT l'MQTT vi permette tramite l'I4C ci sarà, vedete, troverete all'interno delle librerie che troverete nell'I4C disponibili avrete la possibilità di avere la possibilità di essere sia publisher che subscriber perché MQTT è un po' come funziona diciamo che il dato viene spedito o ricevuto solamente quando serve quindi qual è il vantaggio? non ho un po' l'incontinuo quindi ho un'ottima ottimizzazione della banda e funziona un po' come le vostre notifiche che normalmente ricevete sul vostro cellulare ad esempio se, per esempio, farci un esempio nella vostra stazione Meta deve segnalare che sta cominciando a piovere il vostro dato viene inviato al broker che è il terzo, diciamo, elemento che prima non avevamo perché nella client server avete solo i client e i server qui c'è il publisher, il broker e il subscriber cioè chi invia il dato il broker fa da gestore del dato e il subscriber è chi ha richiesto di ricevere il dato quindi capite che il vantaggio qui è che il subscriber invia il dato solamente quando ha bisogno di farlo il broker quando lo riceve capisce che deve inviarlo solamente a chi l'ha richiesto quindi il vostro dispositivo che può essere un I4C da una parte e un I4C anche dall'altra può essere in grado di chiedere un dato piuttosto che un altro cioè io, diciamo, il mio subscriber chiede il dato A e finché il broker non riceve un dato A da qualsiasi publisher non invia nulla al vostro dispositivo quindi capite che a livello di ottimizzazione di banda sicuramente è un protocollo che ha delle grandi potenzialità ed è molto avanzato poi magari in corsi futuri si approfondirà meglio quando magari si potrà anche vedersi di persona perché diciamo in remoto non è semplicissimo scendere ai dettagli di questo protocollo che ha una differenza fondamentale rispetto a quello che siamo abituati a utilizzare finora altra novità interessante è l'SQL l'SQL ha il vantaggio di poter andare a scrivere direttamente su database quindi voi potrete configurare questi 5 database che vedete sulla destra quindi l'SQL Server il MySQL che è praticamente uno dei più diffusi il MariaDB l'SQL Azure che non è altro che l'SQL Server di Microsoft però è in cloud e PostgreSQL quindi voi tramite una Function Block potrete andare per esempio a scrivere sul vostro database o a leggere anche dei dati del vostro database un esempio di applicazione in cui viene utilizzato è per la lettura delle ricette ad esempio di lavorazione e anche come storicitazione dei dati della lavorazione quindi viene andato e in questo caso invece va a scrivere i dati sull'SQL c'è la possibilità anche di avere una connessione remota tramite chi già lo conosce il Corvina Cloud che è il nostro cloud che permette di avere una connessione remota quindi una manutenzione remota dell'i4c e anche di tutti i dispositivi che sono connessi come endpoint all'interno della rete dell'i4c e è possibile anche utilizzare nel caso uno abbia già una propria VPN qualsiasi open VPN potete impostarla dentro al vostro dispositivo quindi diciamo anche qui avete una possibilità chi ha già qualcosa di avviato può inserirlo tranquillamente inserendo i dati della propria open VPN quali certificati, nome utente, password tutto quello che serve per connettersi alla propria VPN oppure utilizzare il servizio Corvina Cloud che praticamente con una licenza a dispositivo potete connetterlo senza problemi alla rete altra cosa interessante è che con l'HmWin come chi magari è già abituato a utilizzarlo sui pannelli operatori nostri della serie HM può creare delle pagine web in HTML quindi con qualche drag and drop di pulsanti piuttosto che di widget di cosiddetti e altro genere si possono creare delle pagine di controllo remoto visualizzazione remota insomma tutto quello che può essere utile raggiungere con un browser anche per visualizzare grafici, dati del funzionamento della macchina piuttosto che una storizzazione di quello che è successo insomma tutto quello che viene in mente si può implementare senza problemi a livello di sicurezza volevo spendere due parole perché vale la pena diciamo che siamo allo stato dell'arte attuale cioè viene supportato l'HTTPS, la VPN, l'SSH, l'FTPPS, l'SSL e il TLS supportati per l'MQTT, l'OPC UA e l'SQL quindi volevo dirvi sostanzialmente questa slide che quello che vi viene richiesto adesso a livello di sicurezza da chi si va a mettere magari ad affrontare il cloud dove va magari a gestire dei dati quindi a delle situazioni remote quindi una condivisione di dati che è sulla rete e quindi può essere che venga anche cercato di entrare a vedere cosa succede in quella rete per un motivo o per l'altro da qualche esterno all'azienda ecco sappiate che quello che viene proposto con l'I4C è lo stato dell'arte di quello che è la criptazione e il time running VPN tutto quello che serve per la connessione sicura in modo che vedrete anche magari prendendolo in mano e provando a giocarci dentro a vedere un pochino i menu che i certificati sono sempre supportati quindi c'è anche la possibilità di avere certificato proprietario certificato dell'inter certificatore e quindi avere un'autenticità di chi sta cercando di connettersi e anche del server a cui mi sto connettendo che sia vero che la connessione non sia stata per esempio rinderizzata ecco queste migliorie vi danno una visione di un pochino quello che è stato implementato per la sicurezza se avete domande sono qui rispetto magari altri 10-15 secondi dopodiché riparto ditemi voi se avete qualche domanda dubbi o perplessità non fatevi problemi aprite il microfono e chiedete pure ok vedo che è tutto chiaro quindi avanti volevo in questo corso farvi capire un attimino per chi magari siccome tanti sono abituati a pensare che sia il successore dell'FP Web 2 ma in realtà vi dico questa è tutta un'altra cosa è un altro paio di maniche qua nel senso che le potenzialità che avete su questo con l'FP Web 2 appartiene all'era della preistoria qua proprio si comincia a parlare in un'altra maniera qui il dispositivo diciamo quando lo tirate fuori dalla scatola è interessante capire come connettersi perché magari uno non ha neanche la dimistichezza cioè magari gli manca o comunque non ha la dimistichezza quindi preferisce capire un attimino come funziona il discorso come dicevamo prima ci sono le due porte Ethernet la Ethernet 0 e la 1 sono impostate in due maniere completamente diverse la Ethernet 0 è impostata in DHCP questo cosa vuol dire? vuol dire che voi quando mettete il vostro dispositivo ha un router il router gli assegnerà un indirizzo IP un po' come avviene normalmente quando voi comprate il vostro PC lo connettete la prima volta è sempre in DHCP il router gli assegna un IP poi vi spiegherò come andare a rintrazzarlo in rete mentre con la Ethernet 1 il dispositivo è sempre impostato in quell'indirizzo 192 e 168.01 cioè praticamente ha un indirizzo statico vuol dire che se voi connettete l'Ethernet 1 per esempio a una rete con un router in DHCP non lo troverete mai e viceversa se connettete un DHCP a una rete con un indirizzo IP anche lì avrete le vostre difficoltà adesso vi spiego un attimino come andare a configurarlo ok l'Ethernet 0 è quella in alto l'Ethernet 1 è la seconda perché noi siamo informatici e lo 0 esiste per andare ad aprire aprendo l'HMWin per andare a rintrazzarlo nel caso 1 nel caso A quindi quando andrete il vostro dispositivo connesso ad DHCP potete selezionare tramite menu run manage target di HMWin e lì lui farà una rapida scansione della vostra rete troverà il vostro indirizzo IP perché come vedete nella slide lì per esempio è 158 118 5284 questo è l'indirizzo del vostro dispositivo noterete che il nome si chiama device trattino 05 c1 05 c1 è la fine dell'indirizzo mac del vostro dispositivo che trovate sempre sull'etichetta che è attaccata sul fianco del vostro dispositivo quindi per accedere all'indirizzo bisognerà digitare sul proprio browser l'https l'indirizzo IP del device quindi in questo caso 158 5284 slash ft underscore config il vostro browser vi dirà che la connessione non è privata perché per una questione di gestione dei certificati voi dovete premere su avanzate fidarvi e a quel punto vi verrà chiesto di procedere su l'indirizzo 192 che non è sicuro e voi gli direte li metterete dentro vi si aprirà il pannello non mettendo la password che vi resta un'autenticazione quelle di default sono admin admin nel caso B invece in cui avete l'indirizzo IP fisso diciamo che voi doveste avere sul vostro scheda internet di IPC un indirizzo con la sottorete coerente rispetto a quello dell'FPFC cioè l'FPFC è impostato 192 168 0 1 voi dovete avere qualsiasi altro indirizzo che sia nella sottorete 192 168 0 quindi per esempio il 100 che è libero in questo caso perché se voi avete per esempio l'avete collegato diretto con il cavetto Ethernet potete raggiungerlo con un altro indirizzo IP il vostro è 192 168 0 100 e quello dell'IP del vostro dispositivo è l'uno finale e quindi attraverso la stessa procedura di prima siete in grado di andare a raggiungerlo quindi connettervi e con il vostro utente la password andare a riuscire a configurarlo ci sono domande proseguo vado avanti fondamentalmente rispetto a quello che trovavate prima sull'FP web 2 ci sono due tipi di menu quando riuscirete attraverso la connessione che avete fatto avete visto fatta prima siamo arrivati alla pagina web del nostro FP e troverete due tipi di impostazioni cioè la pagina con FP underscore config finale vi permette di settare tutto quello che sono le varie applicazioni che abbiamo visto un po' prima quindi abilitare le varie interfacce seriali configurare le porte ethernet che assegnarle alle seriali la funzione di data logging che è già integrata l'MQTT la gestione quindi il time and date che è il trasferimento della data è l'ora da diciamo il trasferimento verso il PLC quindi la sincronizzazione con l'ora lo script che è quello che trovavate anche sull'FP web 2 quindi se avevate abituato ad utilizzare gli script potrete farlo anche con l'FP e forse senza problemi la parte di SQL client e poi c'è una parte di backup che vi permette di fare il backup di tutte queste impostazioni che potete fare da qui l'ultima parte è il link che vi dà questa pagina è il system setting il system setting vi connette a questa pagina che è raggiungibile tramite sempre con l'https doppio slash IP del vostro dispositivo slash machine config underscore config raggiungete questa pagina che non è altro che se avete utilizzato i pannelli della serie HME o HMX sono tutte le impostazioni che trovate identiche a quelle del pannello cioè qui trovate tutto quello che è il settaggio del backup del sistema l'impostazione di rete i servizi quale per esempio la VPN il WNC il vostro indirizzo IP tutto quello che è l'impostazione proprio del dispositivo in sé quindi potete raggiungere da queste due pagine o dal link della pagina di application setting oppure da l'indirizzo machine config questa parte qui di machine config se voi magari non vi è mai capitato di utilizzarlo ma se voi sapete l'indirizzo IP del vostro pannello potete tranquillamente andare a cambiare tutte le impostazioni del vostro pannello tramite gli stessi menu che troverete nell'FP ok proviamo quindi un attimino a impostare una connessione su una 232 quindi sulla com1 in questo caso come vedete vi dicevo prima un po' per per completezza del discorso c'è la possibilità di avere come vedete la connessione USB vi ricordo che potete avere solo un PLC connesso USB l'altra eventualmente può essere utilizzata per altre funzioni ma non per i PLC quindi anche per esempio se avete un pannello GT e volete fare pass-through attraverso l'USB potete connettere pannello all'USB e poi dal pannello tramite la com andate al PLC quindi potete utilizzarlo per fare pass-through con il nuovo firmware è possibile anche andare a programmare da remoto il pannello GT oltre che andare a programmare in pass-through appunto il PLC e ci sono le connessioni con le espansioni degli ingressi uscite digitali analogiche che si possono configurare finalmente agganciare fino a 3 come si fa con l'FP0R e la connessione Ethernet la 485 barra 232 che è impostabile però chiaramente la 485 ha i suoi vantaggi rispetto alla 232 e la 232 fissa che diciamo queste qui sono le 5 connessioni che potete fare senza problemi le interfacce configurabili le potete trovare all'indirizzo che vi dicevo anche prima con l'FP config e da qui potete configurare la com1 per esempio che è quella che magari poi andremo a configurare insieme sul mio i4 sitio vedete che giusto per darvi un'idea ci sono tre protocolli disponibili che sono il Mutacle 7 e il Modbus sostanzialmente qui si va a settare un po' quello che si fa normalmente anche con l'FPweb 2 quindi si abilita la connessione si decide il protocollo si decide la velocità la parità e tutto quello che è il timeout eccetera come sempre come si faceva anche nell'FPweb 2 si assegna anche l'interfaccia principale perché come dicevamo prima tutte le interfacce sono sempre raggiungibili tramite Ethernet però ce n'è solo una che comanda perché quella che fondamentalmente avrà la possibilità di configurare tutte le funzioni che abbiamo visto prima quindi l'MQTT piuttosto che il database gli script e tutte queste cose saranno sempre attraverso un'unica interfaccia un po' come eravate abituati anche con l'FPweb 2 poi ci sono delle impostazioni anche come diciamo per mantenere un certo collegamento con l'FPweb 2 ci sono tutte queste impostazioni di restart che era un po' come si faceva anche anche l'area ecco diciamo che cercate di mantenere anche una certa non si può dire filo logico da quello che era eravate abituati ad utilizzare a quello che andrete ad utilizzare chiaramente si è cercato di migliorarlo però diciamo che tante cose che eravate abituati ad utilizzare magari cambieranno i menu le impostazioni scusatemi l'interfaccia però le impostazioni magari sono sempre quelle ecco quindi non abbiate paura ecco a dover fare il passaggio da uno all'altro e qui nella parte di configurazione delle porte come si faceva anche in passato anche qui troverete delle impostazioni in più quindi avrete sempre la la porta quindi il numero della porta TCP collegata a quale interfaccia dell'IFO-C troverete un filtro per gli IP che possono entrare in contatto con questa porta quindi se io ricevo se l'IFO-C riceve una connessione da un IP differente da quello che avete impostato qui dentro quindi che sia un range o un IP un univoco la rifiuterà quindi nessuno è in grado di entrare attraverso andare ad aggiungere connessioni che non sono state previste ecco potete configurare il numero dei client disponibile fino a 16 e potete anche decidere se questa porta può essere utilizzata per andare online con l'FP in Pro oppure no e quindi potrà essere utilizzata solo per andare a interrogare alcuni DT per esempio ma non andare online con il Pro e Modbus Gateway è l'impostazione che si può avere sul Modbus e vi permette di andare a decidere quali aree di memoria potete rendere disponibili e quali no verso il vostro client Modbus e quindi praticamente come funziona un po' come si faceva nell'FP Web 2 il protocollo che arriva all'ingresso sulla porta TCP viene reindirizzato sull'interfaccia selezionata non viene fatta una traduzione dei protocolli al momento quindi il protocollo utilizzato deve essere lo stesso cioè entro in Mutacle e l'FP forc rimette in seriale il mio Mutacle che mi arriva in modalità TCP ad esempio da sulla porta 94 e mi mette il Mutacle sulla connessa alla 232 per esempio ecco l'indirizzamento di tutte queste porte che si possono andare a configurare viene utilizzato principalmente per connettere i vostri dispositivi senza Ethernet e vedete che in alto è possibile anche fare il test di come si faceva anche con l'FP Web 2 vedete che veramente un pochino quello che era l'FP Web 2 lo ritrovate anche qui dentro i menu sono diversi ma alla fine alcune cose sono rimaste quello che erano e anche qui potete fare il test della connessione per vedere se il vostro dispositivo è stato connesso correttamente ecco una cosa che vorrei farvi notare è che per esempio nelle pagine dell'HMWin se voi volete andare a fare una connessione attraverso il reindirizzamento che avete fatto sul vostro I4C quindi volete che ne so la porta 994 alla seriale 232 abilitata e connesso un FP0L l'HMWin vuole leggere per le pagine web i dati che ci sono su questo dispositivo sui pannelli cosa avreste fatto avreste configurato sull'HMWin l'indirizzo IP del dispositivo la porta oppure addirittura avreste messo direttamente la seriale perché tanto è connesso direttamente e sareste andati a leggere i dati qui invece funziona diversamente voi dovrete prendere i dati che sono disponibili sull'indirizzo IP address fate caso sullo screenshot che c'è qui c'è come dispositivo per l'indirizzo IP è il localhost quindi 127.001 è quell'indirizzo speciale che vi dice sei te stesso quindi tu vai a leggere in muto con il TCP sulla porta per esempio 9095 di te stesso e quindi quella porta 9095 vi viene ridirezionata verso per esempio l'FP0R capite che è un pochino diverso da quello che utilizzavate sui pannelli sui pannelli là avreste configurato direttamente la seriale di connessione verso l'FP0R qui invece dovete lavorare in modo diverso ma magari questo lo approfondiamo un attimino con il corso successivo sui sui progetti web mentre per la vostra connessione dell'FP win pro che per chi è abituato ad utilizzare l'FP web 2 avviene nella stessa identica maniera fondamentalmente anche qui se avete domande non fatevi problemi chiedete pure altrimenti io proseguo adesso io per esempio ho configurato qui il mio pc con vedete che è tutto in DHCP e ho configurato una connessione sull'FP0H in RS232 tramite l'FP4C poi vedremo come andiamo adesso magari ad aprire i menu dell'FP4C quindi vi faccio vedere un po' meglio e più o meno la connessione che ho fatto è questa qui e sull'FP0H senza magari lo apriamo dopo il pro ho impostato fondamentalmente questi dati quindi la connessione con il numero di stazione 1 la velocità 115.2 8 la parità lunghezza dati 8 la parità dispari e un bit di stop il classico diciamo che si trova di default ho messo un piccolo programma PLC su perché un po' un sciocchezzo giusto per fare un esempio e per andare a metterci online con l'FP1 Pro tramite il menu dell'FP1 Pro online in postazione di comunicazione andiamo a inserire l'indirizzo IP che è lo stesso che adesso andremo a vedere sul nostro FP4C la stazione è quella che avete indicato sull'FP1 Pro e anche oltre che averla messa sul controllo device e la porta è quella che avete impostato sul vostro FP4C allora adesso facciamo una cosa bella e apriamo Firefox riuscite a vedere tutti Firefox spero di sì allora l'indirizzo del mio FP4C adesso al di là che lo conosco essendo in DHCP cosa faccio per andare a ricercarlo apro il mio HMWin che è della versione .4.0 che sarà disponibile a breve sarà anche gratuito vado nel menu Run Manage Target il mio buon HMWin fa la scansione della rete vedete che ha trovato due dispositivi uno è il device FFE55 che è il nostro FP4C e questo che è il pannello che ho qui sulla mia scrittoria quindi noi sappiamo che l'indirizzo del nostro IP del nostro FP4C è questo quindi noi andremo a scriverlo nel nostro browser metteremo slash fp underscore config andiamo a connetterci vedete che ci chiede subito il nome utente la password quindi di default è admin admin nessuno vi vieta di cambiare gli utenti e anche la password e quindi vedete che già qui avete un livello di sicurezza nessuno entra sul dispositivo senza perlomeno conoscere l'utente la password come potete vedere la connessione è comunque sicura perché in HTTPS vedete qui la questione dei certificati era già stata fatta perché ovviamente ci avevo già lavorato e quindi non mi è stato richiesto però la prima volta sicuramente vi chiederà che il certificato del certification authority che è l'ente che certifica pubblico che vi dà il certificato che è dato dall'insieme della chiave privata e pubblica so che è un discorso un po' complicato ma è sostanzialmente un certificato che viene scambiato dal vostro browser vestito e server e non trova una corrispondenza tra i due perché chiaramente essendo un server passate tra virgolette su una rete privata non può essere certificato da un inter certificatore esterno capite che il discorso non torna mentre se fosse non so il server di google ok il certificato che andate grazie il vostro browser scambia con google garantisce tramite questo terzo int che è l'int del certificatore che google è google e quindi voi potete connettervi sicuramente a quella pagina qui chiaramente essendo una cosa privata non può sussistere uno scambio di certificati di questo genere quindi chiaramente vi dirà che non potete che il certificato non è valido ma voi diciamo dite che lo riconoscete comunque come sicuro questo server è andato avanti e quindi potete accedere alla pagina di configurazioni cosa interessante qui avete il menu è online l'help è sempre aggiornato tramite questa pagina quindi trovate tutto quello che è disponibile per la com interface qui avete tutto il menu generale dove avete tutte le varie parti dove potete trovare l'help dove trovate tutte le informazioni per sottare lavorare eccetera addirittura una novità che vi posso dire rispetto al vecchio fp web per esempio voi andate nella per esempio prendiamo l'mqtt troverete nella pagina web di configurazione oltre all'help qui sopra nella parte alta troverete questi due pulsanti qui in fondo quindi troverete sia il download della libreria quindi voi potete scaricare dal vostro fp forse la libreria aggiornata e un esempio funzionante chiaramente capite che a questo punto non avrete più una libreria separata perché la libreria sarà sempre dentro il vostro dispositivo non dovrete più andare a cercare ma ho installato aspetta l'ho messa non l'ho messa tutte le funzioni che sono qui nella parte sinistra le potete tranquillamente per esempio anche le SQL avrete anche qui il download la possibilità di scaricare la vostra libreria e anche un esempio funzionante questa è una delle novità diciamo che è stata inserita tornando a noi per esempio per configurare la nostra connessione seriale bisogna innanzitutto abilitare l'RS232 si sceglie il protocollo che dicevamo prima in questo caso io ho un FP0H quindi mi serve il muto con la 16 bit il muto con 7 lo potete utilizzare solo ed esclusivamente con l'FP7 e poi c'è il modbus chiaramente quello dipende dal dispositivo che avete attaccato sotto qui c'è la possibilità di mettere l'autoconfigurazione delle velocità qui ci sono tutte le impostazioni un po' come c'era anche l'FP2 quindi la velocità la parità e il timeout che avete su un dispositivo vedete che su tutti gli altri dispositivi per esempio quello Ethernet avete delle impostazioni un po' diverse perché avete anche le impostazioni del dispositivo a cui andrà a connettersi e andrà a interrogare quindi in questo caso il 192.168.1.5 sulla port 502 per esempio se lo metto in modbus vedete io posso andare a interrogare in modbus questo indirizzo IP che è connesso alla Ethernet 1 che abbiamo visto che è la seconda Ethernet disponibile qui c'è il discorso che dicevamo prima dell'interfaccia di chi comanda quindi in questo caso l'RS232 vuol dire che la mia RS232 è quella che comanda se andrò a configurarla per esempio la MQTT le SQL le client si dicevamo qui c'è l'interfaccia di controllo che è quella che comanda fondamente tutte queste funzioni qui con il numero della stazione come trovate a specchio su quello che era la vecchia impostazione dell'FPweb2 e tutte queste impostazioni del restart le porte in questo caso io ho aperto la connessione del seriale 232 sulla porta 994 il numero di client per impostarlo vedete tranquillamente fino a 16 nessuno vi vieta di creare una seconda porta sulla stessa seriale chiaramente viene gestita la connessione il primo che arriva è il primo che comunica viene messo ovviamente in una in coda all'altra e le varie connessioni che arrivano e qui potete fare il test sulla vostra porta e vedete che in questo caso è connesso e mi dice ok ti ho risposto in un tempo di 56 mili secondi mi ha risposto qui potete andare a fare un filtro di tutti i dispositivi gli indirizzi IP che possono andare a connettersi su questa porta e qui come dicevamo prima nel caso per esempio del Modbus potete andare a settare tutte le varie parti di indirizzi che sono disponibili dall'esterno e quelli che magari non volete che siano solo in scrittura quelli che magari sono in lettura e quelli che proprio volete che non vengano toccati da chi prova a connettersi dall'esterno ecco detto ciò faccio un attimo una piccola panoramica giusto per farvi vedere qui trovate tutta la parte di impostazioni per il data logging quindi potete andare a scegliere il dispositivo dove volete salvare la memoria tutta la composizione come è composto il vostro file header potete importare per esempio tutte le variabili che avete esportato dal vostro FPWinPro vedete tutti questi dati che io ho importato direttamente cioè l'FPWinPro ho messo le mie variabili govari le ho esportate ho importato il mio file CSV e mi trovo già tutto fatto quindi praticamente veramente molto semplice da impostare l'MQTT qui trovate tutte le varie impostazioni avete vedete tutta la gestione dei certificati come vi dicevo prima cioè questo è il certificato pubblico di cui vi parlavo prima che è dato da un'unità certificatore a stanno questo è il vostro certificato personale quindi appartenente al vostro FP4C e questa è la chiave che vi permette di decriptare i certificati e che quindi l'unione di queste tre di questi tre certificati scusate di questi due certificati più la chiave è da la veridicità del vostro server o piuttosto il server sa che il dispositivo client che in questo caso siete voi può essere autorizzato a connettersi qui invece c'è tutta la parte in alto di connessione che non è altro che le aree di memoria che vengono utilizzate dalla funzione qui c'è un impostazione della data e l'ora quindi ovviamente gli indirizzi dove volete andare a scrivere quindi il vostro dispositivo sincronizza la data e l'ora con il vostro PLC nel caso dell'FP7 se voi avete per esempio messo sull'RS232 il muto col 7 qui basta che selezionate la DT50 e ritroverete la data e l'ora sulle special DT dell'FP7 senza dover fare alcun tipo di trasferimento dei dati quindi anche qui è in grado in base al protocollo che avete selezionato sa dove andare a mettere andare a scrivere le aree di memoria e come andare a scriverle perché sappiamo benissimo che sono gestite in due maniere diverse qui trovate anche l'FTP client stessa stessa cosa anche qui trovate tutta la gestione dei certificati del vostro server e la modalità di connessione anche qui trovate la libreria e l'esempio funzionante gli script sono come dicevamo prima più o meno quelli che trovavate anche una volta sull'FPWeb2 e quindi troverete pari pari se eravate abituati a utilizzarli li troverete identici qui quindi non c'è nessun alcun tipo di problema l'ultima parte l'SQL anche qui trovate tutta la parte di gestione di registri dove vengono configurate le aree di memoria che permettono all'FP di capire cosa deve fare verso il vostro server SQL trovate tutte le impostazioni dove configurare i vostri database e anche qui avete il vostro esempio con la libreria e questa è l'ultima parte che è quella di backup e restore questo backup e restore vi fa il backup di tutti questi menu che avete settato qui quindi potete fare una backup e trasferirlo su un altro dispositivo e avere una copia esatta del vostro dispositivo della parte di application setting poi giusto per finire e chiudere il discorso questo qui è la parte di machine config giusto per darvi un'idea di cosa ci trovate dentro trovate le impostazioni in menu dei linguaggi qui ci sono tutti i dati di sistema qui c'è una parte di log che magari quando poi se vi servirà approfondiremo insieme la data è l'ora se deve configurarla tramite un NTP o se è manuale che è quella che poi verrà trasferita di fatto sul vostro PLC dal menu che avevamo visto prima la parte di settaggi di tutta la vostra rete e in questo caso vedete anche la VPN che è quella data da Corvina Cloud qui trovate tutti i servizi di sistema quindi il cloud l'impostazione dell'Ethernet se volete farla come switch quindi o come bridge o come insomma quello che volete che fare fondamentalmente oppure tenerla quei due diciamo le due reti separate impostazioni del server di HCP perché potete farlo anche come di HCP anche e troverete la connessione SSH se qualcuno ha utilizzato la dimistichezza con Linux è la stessa cioè vi connettete come se vi connetteste con SSH su Linux e VNC Service è quello che vi permette proprio di andare anche un po' come trovate anche nei pannelli c'è lo stesso identico discorso poi qui sono tutti backup vari di sistema aggiornamenti di sistema RESTART l'authentication qui è come volete il certificato di amministrazione e il certificato X509 che sono un po' quelli certificati che abbiamo visto anche prima quindi noi adesso tornando a noi abbiamo configurato l'interfaccia del RS232 con tutte le sue impostazioni la porta abbiamo detto abbiamo partito la 94 ci siamo partiti con un numero di client pari a 3 la porta abbiamo visto che funziona quindi noi con il PRO siamo in grado di andare online con il nostro FPI for C per esempio facciamo un nuovo progetto dal PLC lo andiamo a tirar su dal PLC quindi qua selezioniamo la metà Ethernet io metto in acquisizione automatica il diritto IP perché tanto non ho VPN attiva attenzione che se avete delle VPN attivate dovete specificare il vostro indirizzo IP del vostro PC e qui ci mettete il vostro indirizzo 1001 115 che è il vostro FP for C e la vostra porta che è la 94 quindi faccio ok e quindi il nostro FPI Pro si connette e va a tirare su il progetto che era scaricato dentro al vostro FPFC e quindi sono in grado di operare, fare tutto quello che mi interessa fare abilitare le uscite, avere un contatore tutto quello che mi interessa andare a fare posso farlo tranquillamente un po' come si faceva nell'FP Web 2 ecco, credo che sono le 9.59 diciamo che siamo stati precisi, perfetti al minuto non è rimasto altro che magari adesso approfondiremo in altri corsi tutto il discorso se avete domande, eventualmente se vi vengono domande successivamente potete scrivermi tranquillamente una mail senza problemi